A settembre dobbiamo far sparire quella cosa della Orlandi e pagare i tombaroli. Di questo devi parlare al Papa. Ora che torniamo si lavora all'archivio e basta giornali e follie varie. Quella roba della Orlandi deve sparire e tu devi farti gli affari tuoi. Ecco uno dei messaggi di una chat risalente a dieci anni fa. Francesca Immacolata, ciao qui, all'epoca membro della Commissione di Studio sulle Attività Economiche e Amministrative, Cosea, in Vaticano, lo scrisse ad Angel Vallejo Balda, un ex segretario della Prefettura degli Affari Economici e allora capo della Cosea. La Cosea fu istituita nel 2013 da Papa Francesco per indagare sullo stato delle finanze della Santa Sede e promuovere la trasparenza in Vaticano. Nel 2015 entrambi furono coinvolti in uno scandalo legato alla fuga di documenti riservati del Vaticano. Questo messaggio e altri simili potrebbero rappresentare una delle tre piste da approfondire per Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Poco prima di Emanuela, un'altra ragazza di 15 anni, Mirella Gregori, anche lei romana, sparì dopo aver detto ai genitori, esco un attimo, torno subito. Entrambe le ragazze sono scomparse senza lasciare traccia. Nel corso degli anni sono emerse irregolarità e possibili collegamenti tra questi casi, tanto che la politica ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta per fare luce sulla vicenda. La scorsa settimana i familiari delle due ragazze sono stati ascoltati. Pietro Orlandi ha indicato tre possibili linee investigative, mentre Antonietta Gregori, sorella di Mirella, ha richiesto che la commissione senta Sonia De Vito, l'amica di Mirella. Si crede che questa donna possa sapere con chi si era incontrata Mirella il 7 maggio 1983, giorno della sua scomparsa. Esiste infatti una nota riservata del SISDE, i servizi segreti italiani, che riporta che alcuni mesi dopo la scomparsa della giovane, Sonia avesse confidato a un'altra amica. Come ha preso Mirella, poteva prendere pure me. Cosa voleva davvero dire Sonia con quelle parole? Aveva conoscenze sui dettagli della scomparsa? Perché questa pista non è stata esaminata più a fondo? È possibile che Sonia detenga informazioni sul mistero della scomparsa della sua amica e le abbia tenute nascoste? Inoltre, c'è un collegamento tra il caso di Mirella e quello di Emanuela. Su questo punto, Maria Antonietta ha espresso il suo pensiero. I servizi segreti ci dissero che c'era un avvocato di fama internazionale che già seguiva la famiglia Orlandi. Il riferimento è all'avvocato Gennaro Egidio. Continua. Noi dicemmo di sì, ma mentre gli Orlandi non lo hanno mai pagato, mio padre e mia madre si sono indebitati. Le sue parcelle erano salatissime. Su questo punto, Pietro Orlandi precisa che suo padre disse subito, io non me lo posso permettere. Qualcuno, diverso dalla famiglia Orlandi, pagò l'avvocato. Fu il lavoro dei servizi segreti o forse una mossa del Vaticano? E perché fu suggerito lo stesso avvocato ad entrambe le famiglie? Anche su questo la commissione parlamentare dovrà indagare per comprendere i molteplici intrecci e gli interessi coinvolti. Tornando a Pietro Orlandi e alle tre linee di indagine da seguire, ha affermato. Ci sono fatti recenti che possono permetterci di fare passi avanti importanti. Ci sono degli indizi veramente utili. E questi elementi, secondo il fratello di Emanuela, richiedono un'analisi mai approfondita prima d'ora. La prima persona coinvolta da Pietro Orlandi è stato il magistrato Giancarlo Capaldo, ora in pensione, che si occupò del caso Orlandi nel 2012. Quell'anno, secondo quanto affermato da Pietro, il magistrato avrebbe avuto un incontro con degli emissari del Vaticano, tra cui il capo della gendarmeria vaticana Domenico Gianni e il suo vice Costanzo Alessandrini. Ha spiegato Pietro Orlandi. C'è stata una sorta di ammissione da parte del Vaticano di essere a conoscenza di alcuni fatti, quindi mi auguro che tutti e tre siano ascoltati. La seconda pista conduce a Londra. Secondo questa teoria, emersa nel 2017, il Vaticano avrebbe coperto le spese di Emanuela Orlandi a Londra, spese che sarebbero riportate in un documento. Tale documento, però, è stato etichettato come falso e apocrifo. Nonostante ciò, Pietro ritiene che possa contenere informazioni cruciali. Questa ipotesi gli sembra credibile anche perché in passato è stato informato della presenza di Emanuela a Londra tramite una segnalazione che per vari motivi gli è sembrata autentica. Infine, la terza ipotesi, la più enigmatica e forse anche fantasiosa, riguarda alcuni messaggi WhatsApp che sostiene di aver ricevuto. Ha spiegato. Li ho ricevuti qualche anno fa. Sono tra due persone vicine a Papa Francesco, su telefoni riservati della Santa Sede. Questi messaggi parlano di documenti di Emanuela, dicono che sono importanti, che bisogna fotocopiarli. Parlano di georadar, di come pagare i tombaroli che non si possono pagare in maniera pulita. Su questo punto, Orlandi ha coinvolto Francesca Immacolata Chaochi e Monsignor Balda, entrambi membri della Cosea, come precedentemente menzionato. Orlandi sostiene che i due abbiano scambiato quei messaggi perché avevano trovato dei documenti relativi a Emanuela, una cassa contenenti oggetti di Emanuela. Mi hanno anche indicato dove si trovasse questa cassa, depositata a Santa Maria Maggiore. Ho riportato queste informazioni ad Alessandro Diddi, il promotore di giustizia Vaticano, durante il mio interrogatorio l'anno scorso. Ho richiesto che Francesca Immacolata Chaochi fosse convocata il prima possibile per testimoniare, dato che mi aveva fornito gli screenshot di quei messaggi, ma non è stata convocata. È incredibile che su caso irrisolto da 40 anni ci siano documenti accessibili a tutti ma non sia stato possibile ottenerli. Quanto alla pista che porta in Inghilterra, il presidente della Commissione parlamentare, il senatore Andrea De Priamo, ha deciso di secretare la seduta. Pietro Orlandi potrebbe aver menzionato il nome del terrorista che gli ha fornito dettagli su questa pista. Riguardo al ruolo anomalo dei servizi segreti, il fratello di Emanuela ha aggiunto altri dettagli. Tre giorni dopo la scomparsa, dalla cameretta di Emanuela presero tutto. Sono venuti a casa nostra perché questo personaggio dei servizi aveva anche casualmente conosciuto Emanuela, era un amico di sua cugina. Due giorni dopo è tornato con un ufficiale dei carabinieri di stanza al SISDE. Per noi erano persone che ci stavano aiutando, noi gli davamo tutto. Sono stati tracciati anche gli ultimi contatti di Emanuela. Parlò con sua sorella Federica, ecco cosa ha dichiarato. Ero a casa, i miei erano usciti ed è arrivata la chiamata di Emanuela dalla scuola di musica e voleva parlare con mamma perché prima dell'entrata le si era avvicinato un ragazzo che le aveva proposto un lavoro per conto dell'Avon per il sabato successivo. Mi disse che il compenso era di 350.000 lire. Io le ho detto di tornare a casa, pensavo a un truffatore. È stato anche chiarito che inizialmente i familiari sospettavano che Emanuela fosse stata rapita da un criminale. Tuttavia l'ombra del Vaticano, l'interesse dei servizi segreti che si è esteso al caso Gregori e le piste false deliberate per deviare le indagini hanno trasformato le loro scomparse in due dei più grandi enigmi italiani. Da considerare che dopo le due scomparse, un anonimo, noto come l'americano per il suo accento, telefonò alle famiglie suggerendo di essere a conoscenza di fatti cruciali. Recentemente un'analisi forense ha indicato che la voce, così come quella di altri chiamanti, potrebbe appartenere a Marco Fassoni Accetti, un fotografo romano che era stato indagato nel 2013 e si era autoaccusato di essere coinvolto nei rapimenti, sebbene fosse stato scagionato. Accetti ha richiesto personalmente questa perizia per dimostrare di non essere un bugiardo patologico, come alcuni lo hanno definito, ma di aver avuto un ruolo reale. La commissione d'inchiesta deciderà se ascoltarlo, ma separare verità e menzogne sarà senza dubbio un compito arduo.